Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Quando il Figlio dell'uomo verrà nella Sua gloria con tutti i Suoi angeli, si siederà sul trono della Sua gloria e saranno riunite davanti a Lui tutte le genti. Ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il Pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare ho avuto sete e mi avete dato da bere ero forestiero e mi avete ospitato nudo e mi avete vestito malato e mi avete visitato carcerato e siete venuto a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno Signore quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare assetato e ti abbiamo dato da bere quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato o nudo e ti abbiamo vestito e quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti rispondendo il Re dirà a loro in verità vi dico ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatta a me poi dirà a quelli posti alla sua sinistra via, lontano da me maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare ho avuto sete e non mi avete dato da bere ero forestiero e non mi avete ospitato nudo e non mi avete vestito malato e in carcere e non mi avete visitato anche essi allora risponderanno Signore quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito ma egli risponderà in verità vi dico ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli non l'avete fatto a me e se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna Parola del Signore Domenica 22 novembre 2020 festa di Cristo Re ultima domenica dell'anno liturgico Matteo capitolo 25 versetti 31 a 46 la festa di Cristo Re dell'universo conclude il cammino di preghiera dell'anno liturgico per poi naturalmente domenica prossima ripartire non è un ritorno allo stesso punto non è un cerchio che ritorna sempre su se stesso ma è come dire una spirale che certo torna sullo stesso punto ma più in alto approfondendo in maniera nuova e diversa perché noi siamo nuovi diversi e perché la parola di Dio è sempre nuova e allora in questo ultimo punto del cammino con Matteo che qui si conclude come nostro maestro diciamo così la Chiesa ci invita a puntare gli occhi del cuore e della fede su Cristo Re dell'universo cioè su Gesù che è il punto finale come direbbe Teilhard de Chardin il punto Omega il punto di arrivo di tutta l'evoluzione di tutta la storia l'evoluzione anche proprio dello spazio dell'universo di tutto il tempo di tutta la storia umana alla fine della storia alla fine della vita alla fine di ogni senso chi c'è? secondo tutte le scritture c'è Cristo Re non è un titolo diciamo non vuol dire solo un titolo arcaico così un po' monarchico un po' diciamo così obsoleto dire che Gesù è il Re dell'universo vuol dire che il Signore è il centro della storia il suo fine il suo scopo la sua meta e se uno guarda nella Bibbia chi è il Re che cosa fa? il Re di Israele ecco è il Re associato sempre alla figura del pastore di colui che conduce e si prende cura del suo popolo perlomeno dovrebbe condurlo sulle vie diritte e prendersi cura del suo popolo Cristo è un Re veramente strano perché ha come trono una croce come corona una corona di spine è un Re alla rovescia perché di solito sono i sudditi che combattono per il Re e lo difendono invece nel Regno di Dio è Cristo che dà la vita per i suoi sudditi che muore per il suo popolo e allora in questa ultima domenica Matteo ci propone la famosissima pagina del cosiddetto giudizio finale che è una parabola è una parabola quindi non è una descrizione statistica però ci fa capire assai bene che cosa il Signore ci chiederà alla fine della nostra vita ci chiederà se avremo dato da mangiare agli affamati se avremo dato da bere agli assetati se avremo vestito chi è nudo se avremo accolto chi è straniero se avremo visitato chi è malato e carcerato ecco sono naturalmente solamente degli esempi di una serie di gesti verso i nostri fratelli in cui Cristo si identifica è impressionante in un certo senso quando nel Vangelo Gesù dice io ero forestiero io ero ammalato io ero carcerato cioè si identifica con il delinquente con il malato con lo straniero ecco è questa identificazione che gli farà dire quello che avete fatto o non avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto o non l'avete fatto a me ecco questo re strano che si identifica con l'ultimo con l'affamato con il nudo con il malato con il carcerato con lo straniero questo re veramente che si mette all'ultimo posto e che ci sorprende infatti tutti dicono ma quando signore quando ti abbiamo dato da mangiare quando ti abbiamo assistito non ci siamo accorti la parola di Dio ce lo svela tu non lo sapevi forse ma quando hai fatto questi gesti li hai fatti a Gesù e allora se li hai fatti a Gesù entri nel suo regno se non li hai fatti non entri nel suo regno non eri dei suoi ecco allora la strada dell'amore la strada della condivisione ancora una volta è la strada maestra per entrare nel suo regno per entrare sotto la sovranità dolce e soave di Cristo un re che ha dato la vita per te che ha dato tutto perché anche tu impari a dare tutto a metterti a servizio dell'altro e con questo ci auguriamo buon cammino a che a che a che a